Con cittadini, grazie, grazie a tutti, di vero cuore, siatene certi, rispetterò gli impegni e i contenuti del nostro programma. Siamo già al lavoro, faremo giorno dopo giorno più bella, grande, godibile, la nostra città. Vetralla merita tutte le nostre attenzioni. Al nuovo Consiglio Comunale auguro di lavorare con la serenità e la forza necessaria e la scelta di percorrere sempre la via giusta per raggiungere gli obiettivi che tutti vogliamo. Grazie con cittadini, grazie Vetralla. Vi aspetto tutti per un brindisi augurale giovedì 19 alle ore 18 presso gli imperiali. A tutti una stretta di mano, una stretta di mano dal vostro sindaco, da oggi il sindaco di tutti, vostro Sandrino Avvilani.